Ho deciso di spiegarvi come creare un dub ready. So che molti di voi remixano tutto il sottofondo e gli effetti sonori quando doppiano una clip. Certo, è una tecnica validissima, ma richiede molto tempo e pazienza. Quindi, sappiate che tutto questo non è per forza necessario. Ma che cos'è il dub ready? Il dub ready è una tecnica che consiste nel privare ad una clip la traccia audio degli attori o dei doppiatori, in modo da poterla sostituire con il vostro doppiaggio. Eccovi una dimostrazione. Questa è la traccia audio originale. Questo invece è il dub ready. So che alcuni di voi doppiano da telefono e vorrebbero sapere se si può fare anche da cellulare. La verità è che non ne ho la minima idea, ma sono sicuro che se fosse possibile sarebbe abbastanza complicato. Comunque, che cosa serve per creare un dub ready? Innanzitutto, uTorrent, che è un programma utile per scaricare file di un certo peso. Ed infine, Audacity, un software per l'editing audio. Tutto qui. Sappiate che però esistono due metodi per creare un dub ready. Uno utilizzando una traccia audio a due canali, e un altro con una traccia audio a sei canali. Quest'ultimo metodo è molto migliore. Ma andiamo con ordine. Due canali. Allora, cominciamo con il scegliere la clip che vogliamo doppiare. Se volete doppiare un anime, dovete assolutamente andare su un sito chiamato gna.si. Questo è decisamente il migliore per quanto riguarda gli anime. Se invece volete doppiare un film, vi consiglio chi che è Storrents. Io, per comodità, utilizzerò gna.si. Ma il procedimento è praticamente lo stesso. Allora, cosa vi va di doppiare oggi? Vi va One Punch Man? Ok. Allora andiamo sulla barra di ricerca e cerchiamo il nome dell'anime. Ora, dobbiamo cercare un file in cui è presente l'audio a due canali. Solitamente è scritto nel titolo. Ecco qui. Clicco e mi si apre un'altra pagina. Qui viene confermato che il file ha una traccia audio a due canali. Quindi, scarichiamo. In molti casi vi saranno presenti tutti gli episodi in un solo torrent. A voi basterà deselezionare tutto e selezionare solamente l'episodio che vi interessa. Dopo che il download sarà finito, nel vostro desktop apparirà una cartella con all'interno l'episodio. Eccolo qui. Ora però, dobbiamo importarlo su Audacity. E... di norma non possiamo farlo. Dovete scaricare un plugin che vi permetterà di importare un file video di qualunque tipo all'interno del programma. Lo so, è una rottura di palle, ma dovrete farlo una volta sola, quindi tranquilli. Allora, per farlo dobbiamo andare su Modifica e poi su Preferenze. Una volta qui, cliccate sulla sezione Librerie. Clicchiamo qui su Scarica. Ora vi si aprirà una pagina web inerente ad Audacity. Qui ci sono tre sistemi operativi. Windows, Mac e Linux. Io ho Windows, quindi clicco qui. Una volta qui, dobbiamo andare in questa sezione. Alternative Zip Download for FFMPEG. Clicchiamo su Download Page e infine clicchiamo su FFMPEG win2.2.2.zip. Una volta completato il download, dobbiamo aprire il pacchetto zip ed esportare questo file. avformat55.dll Perfetto. Ora apriamo una cartella. Andiamo su Questo PC Disco locale C Programmi per 86 Ed infine FFMPEG Audacity Trasciniamo il file dentro la cartella. Io l'ho già fatto, quindi non ne ho bisogno. Perfetto. Ora andiamo su Audacity. Clicchiamo su Modifica Preferenze Librerie E infine Localizza Cliccate su Sì e poi su OK Perfetto. Ora il nostro plugin è installato. Ottimo. Ora, come vedete, possiamo trascinare il video all'interno del programma senza alcun problema. Proviamo ad ascoltare la traccia audio con le voci. King He managed to outrank you quickly, master And claim the title of strongest hero Hmm It is strange What the heck is that sound? You don't know about the King engine? It's the sound you hear when King goes into battle! Perfetto. Ora clicchiamo su questa freccia. Clicchiamo su Dividi stereo in mono. Ora abbiamo due tracce audio identiche ma separate. Clicchiamo su una delle due, è indifferente. Andiamo su Effetti E poi su Inverti. Ottimo. Ora proviamo a riascoltarlo. Come avrete notato, nella traccia non è presente alcuna voce e il risultato non è per niente male. Quindi ora dobbiamo esportare la traccia. Andiamo su File Esporta E scegliete il vostro formato preferito. Io vi consiglio l'UAV Cliccate su Salva Su OK E di nuovo OK Ed ecco a voi il vostro DAB Ready prodotto con la tecnica della traccia audio a due canali. Bravi? Vi faccio i miei complimenti? Bravi? Bravi? Avete seguito un tutorial? Bravi! Complimenti! Sono sveglio da mezzanotte. OK? Ho fatto il copione, il montaggio, tutto! Tutto! Io non ho dormito, sono le 8 di mattina. Comunque, ora passiamo al secondo metodo. Il 5.1, la traccia audio a 6 canali. Quindi andiamo di nuovo nel sito, gna.si E cerchiamo un anime abbastanza famoso IQ, ecco Cerchiamo IQ 5.1 Cosa? Non c'è nulla, oh mio Dio È una cosa su... Illuso! Credevi che fosse così semplice trovare una clip con il 5.1? No, non lo è affatto, ascoltami I prodotti disponibili nel web con la traccia a 6 canali sono abbastanza rari Quindi dovete avere culo Se non lo avete, vi dovrete affidare al metodo per l'audio a 2 canali Che comunque sia non è male Ma se invece lo avete e avete intenzione di doppiare, non so, Attack on Titan Dovete essere sicuri che nel titolo o nella descrizione vi sia presente la scritta 5.1 o audio a 6 canali Bene, una volta fatto questo, scarichiamo l'episodio che ci interessa e trasciniamolo su Audacity Come vedete, le tracce audio sono ben 6 Ora dovrete riconoscere quale di queste è quella delle voci Quindi mutiamo tutto e verifichiamo una traccia alla volta Eccola Ora smutiamo tutto e mutiamo solo la traccia delle voci Ascoltate Nessuna voce È perfetto Indennatamente perfetto Quel suono Quel maledetto suono Ora esportiamo Ed ecco a voi come creare il vostro da Brady Bene Sono le 8 del mattino e io non ho dormito Quindi se non vi dispiace Buonanotte Buongiorno No, notte